Le tipologie di persone a cui rivolgersi sono, uno ovviamente le persone anziane, lì si è attivato tutto un discorso della sud-est, della regione, nell'ambito del coordinamento tra il 118, le cotte, il territorio, quindi noi bisogna intercettare i pazienti fragili e anziani e bisogna fare in modo tale che siano ben idratati, che abbiano un ambiente abbastanza fresco e compagnia bella. Per il resto, per le persone giovani, di questi giorni vale la stessa cosa, non solo non uscire nelle ore, ma soprattutto mi rivolgo a chi fa un'attività sportiva durante questo periodo, se non si va alle Olimpiadi a Parigi, che tra poco penso forse sarebbe il caso di evitare. Però devo dire che siamo all'inizio, per ora noi qui, casistica di questo tipo, in questi due o tre giorni di caldo importante, non ne abbiamo ancora vista. Che sia un buon inizio che forse la popolazione ha capito, non lo so. Colpo di calore, ne abbiamo parlato anche negli anni passati, non va sottovalutato. Quali sono gli eventuali sintomi del colpo di calore al quale ci si può essere esposti, magari anche inconsapevolmente? Il colpo di calore è una patologia molto grave perché può portare anche a morte, può portare a delle sequele come crisi convulsive. Come ci se ne accorge? Il paziente comincia a essere soporoso, comincia a avere nausea, comincia a avere brividi se sviluppa la febbre. E quindi sono tutti sintomi molto importanti da tenere conto e davvero correre al pronto soccorso. Perché prima si interviene, è meglio, il paziente va reidratato, bisogna dargli una temperatura che riraffredda il corpo. Però, diciamo, contrariamente al colpo di sole, che è una patologia che può dare un po' di fastidio, ma insomma il colpo di calore crea uno squilibrio anche idroelettrolitico, quindi è una patologia grave che bisogna affrontare. Sono rari i casi, però quando ci sono bisogna trattarli. Ecco, lo doveste spiegare a chi davvero non è colpo di sole, colpo di calore, la macro differenza qual è? La macro differenza è che sintomatologicamente la cosa da cui stare veramente attenti è lo stato di sopore del paziente. Perché colpo di sole uno è rossato, ci può avere cefalea, si sente caldo, ma non c'è un disturbo del sensorio neurologico. Questa è una delle cose a cui stare più attenti. E poi l'ipertermia, una febbre veramente elevata, che non ha origine di niente di infettivo, vuol dire che lì l'equilibrio della temperatura colporea è andato in crisi e quindi bisogna trattarla.